Grazie. Grazie davvero, anche per aver guardato. Come sta? Ciao, e l'insieme di chi è un'altra. Questo è il testo originario del concordato. Abbiamo trovato delle fotografie inedite del giorno della firma dove si riconoscono il presidente Andreotto, il presidente Forlani, il presidente Craxi, Casarola e poi da un, credo che qui si vede meglio, Silvestrini. Poi abbiamo fatto, grazie a voi, il francobolo congiunto che è uguale al cittadino Vaticano. Vi faccio vedere. Questa è l'autorizzazione per il sessantesimo della cappella. Questa è l'autorizzazione alla celebrazione che ha firmato. Autografo. 60 anni dalla... Di San Paolo VI. Ma poi lui disse, voglio fare un documento nuovo. La scrittura è un'autorizzazione della carica che è un'es địzazza cosa. Ed è anche un'autorizzazione circa. Per gli sentimenti璃ulare la carica chilò la Contrlerini Scut contenido raggiungato quali che è legato. Grazie a tutti.